Io stanotte non ho mai dormito, perché c'è un'ansia continua, basta che tu senti una mosca, siamo tutti... che poi, voglio dire, picchiano anche, non è che uno entra in casa e piglia qualcosa, ti buttano all'aria tutto, e poi se ti trovano in casa ti picchiano. Si respira la paura dei residenti a Ponticino dopo la raffica di colpi messi a segno nella zona, ormai bersaglio quasi quotidiano dei ladri, come ci raccontano i residenti. Sei solamente nelle ultime 24 ore, stando a quanto ci raccontano gli abitanti del paese, che corrono così ai ripari, come meglio possono, ma non senza chiedere alle istituzioni più controlli e quindi maggior sicurezza. Ieri sei, i carabinieri erano da una parte e lui fa i ladri da un'altra, sembrava così il film. Si ha paura? Io no, gli altri sì, molto, ma non tanto per la roba che c'è di valore, anche tanto per la privacy, i figlioli, eccetera, eccetera, da rubare, non c'è rimasto niente. E tutti, tutti, tutti si hanno paura, le donne poi... E' un macello, qui non si vive più tranquilli, è quello il fatto. E noi siamo arrivati, voglio dire, anch'io sono stato giovane, ma un affare così manco per sogno, c'era pace. Si chiede un po' di tutela, che si chiede? Si paga le tasse, che si pagano a fare le tasse? Per essere un po' tutelati? Io non voglio mica la guardia sotto le scale, però perlomeno di guardare. Come si vede noi, gente un po' estranea, che si deve fare noi? Che si mette a fare le guardie noi? Vivere con la pistola in tasca, questa è stata invece la scelta di Giuseppe Del Cucina, pensionato di Ponticino, che lo scorso 15 novembre è stato vittima di una rapina nella sua villa. In casa quel giorno c'era solamente la moglie, Carla Calvani, che si è trovata così faccia a faccia con i malviventi, che l'hanno picchiata, minacciata e legata al letto. Io porto darmi, naturalmente, non lo farei per vari motivi e cerco di usurarmi il meglio possibile. Questo credo che comunque qualsiasi lo farebbe. Sono in sala, magari, che ne so, devo andare nelle camere per qualsiasi motivo. Quando entro di là ho subito l'attenzione di guardare in tutte le porte, perché sospetto di trovare qualcuno davanti senza così, all'improvviso. È un sacrificio, comunque, diciamo, è una cosa non piacevole stare sempre con un'arma addosso. Purtroppo, se ti dà un po' il senso della sicurezza, o comunque sai che puoi controbattere, allora fai la scelta, no? Buongiorno Grazie a tutti.